salve amici del tubo benvenuti nel secondo episodio di Cubase 5 come creare un brano da zero senza stare a perdere troppo tempo riapriamo il progetto dalla cartella dove l'avevamo salvato ovviamente e partiamo subito partiamo subito sigla e in culo anche i jets allora eccolo qui che cosa dobbiamo fare abbiamo visto come costruire le prime quattro battute di batteria benissimo allora il brano di cicoria spain quanto dura il giro di accordi dura 16 battute ok per cui che cosa faccio io evidenzio le due battute che abbiamo fatto nel video precedente le evidenzio cliccando con il tasto sinistro del mouse e trascinando per evidenziare le due porzioni in questo caso perché sono solo due le due porzioni due blocchi di battute di batteria tasto alt del della tastiera del mio computer lo clicco il tasto alt e lo tengo premuto il mio mouse come vedi diventa una sorta di pinza non lo so quello che è forbice clicco in qualunque punto dove voglio di queste due battute di questi due blocchi evidenziati e trascino clicco con il tasto sinistro del mouse e trascino i due blocchi copiati che sono assolutamente identici alla prima ai primi mi raccomando di tenere acceso questo lo snap perché è quello che mi consente di se io adesso lo come abbiamo visto ieri se io adesso lo disattivo per cui è diventato bianco e disattivato come vedi io posso spostare arbitrariamente le mie battute ma siccome devo essere preciso per cui devono collimare con le precedenti mi devo devo stare attento che lo snap sia acceso per cui il tasto snap invece di bianco sia blu per fare ciò basta cliccarci sopra difatti adesso vedi che le mie battute arrivano proprio a inizio battuta va bene i miei blocchi ne ho fatti quattro adesso quattro blocchi da due battute per cui ho otto battute li devo doppiare che cosa faccio anzitutto riduco un pochino la visuale del mio del mio lavoro come qui sotto vedi c'è qui sotto c'è questo triangolino che serve proprio all'uopo cioè con cliccando sul simbolo meno come vedi la mia vista si accorcia cliccando sul tasto più come vedi la mia lista la mia vista si allunga si allarga benissimo per quella riduciamo evidenzio tutte e quattro i blocchi di due battute l'uno tasto alt della sempre della tastiera per duplicare clicco sul sinistro del mouse e sposto poi rilascio tutti e due i pulsanti ovviamente mi sono copiato i blocchi selezionati li vado sempre con lo snap attivo li vado ad attacchiare alla fine dell'ultima battuta in modo che siano continuativi benissimo ho adesso ho tutte e 16 le battute di quanto giura di quanto giura di quanto dura il giro di accordi di spendici coria per questo brano che io ho amabilmente chiamato spagna di corrado tales o di cetta fa come devare chiamalo come devare chiamiamolo spagna allora stavo pensando che di fare il il brano di fare questo brano di farlo durare per tre giri per cui tre blocchi da 16 battute l'uno come faccio allora evidenzio tutto il primo blocco di 16 battute come prima cioè tasto sinistro del mouse ok evidenzio evidenzio aiuto evidenzio le mie battute poi sempre tasto alt del pc della tastiera del pc tengo premuto alt e sposto ecco qua che mi sono copiato le 16 battute accorciamo un attimino ancora un po in modo che ce l'abbiamo bene davanti gli occhi le vado ad unire alla fine delle altre battute però questa volta noi praticamente abbiamo un blocco di un giro di accordi che inizia dall'uno e arriva fino al 16 e il secondo blocco che parte dal 16 dal 17 e arriva al 32 che cosa faccio io per evidenziarlo per avere anche a livello visivo d'accordo un'evidenziazione maggiore io evidenzio scusa il gioco di parole il secondo blocco e gli do un colore un colore diverso per cui evidenzio tutte le battute che fanno parte del secondo blocco c'è dalla 17 alla 32 apro in alto a destra vedi c'è questo selettore di colori lo apro con un clic e mi trovo 16 colori di base che direi che sono più che sufficiente adesso come lo vogliamo colorare il primo arancione perfetto per cui io adesso anche lo vedi già a primo impatto visivo io ho questi due blocchi di 16 battute l'uno uno di un colore uno di un altro benissimo siccome voglio far durare come dicevo il mio brano spagna di corrado te lo voglio far durare per tre giri evidenzio il secondo blocco di battute tasto alta del del tastiera del pc tasto sinistro pack e lo duplico anche questa volta questo blocco gli dovrò dare un altro colore perché sennò vedi che è tutto uguale per cui lo evidenzio cioè il quello che parte dalla battuta 33 alla battuta 48 apro il colore la selezione colori e che ne so di che colore facciamo giallo vai ecco qui adesso ridurco riducio riducio ulteriormente la mia schermata in modo ecco ho qui praticamente tre blocchi tac 3 blocchi di battute di 16 battute ognuno ogni blocco ogni giro per cui uno di tre colori diversi così anche a livello proprio visivo come dicevo prima a colpo d'occhio posso capire al volo dove mi trovo cambiamo anche il colore di questo grigio è veramente tetro brutto li ho evidenzio di che cosa facciamo blu blu azzurro ecco qui il primo blocco per cui sarà il primo blocco per cui sarà di colore azzurro il secondo blocco per cui il secondo giro di 16 battute ce l'abbiamo in arancione il terzo e ultimo perché poi ho deciso di finirlo qui il brano non deve essere particolarmente lungo il terzo blocco dicevo di 16 battute anch'esso di colore giallo fantastico allora per fare una facciamo una cosa fighissima che è questa evidenzio tutti e tre i blocchi poi allargo la visuale dopo dopo di che che cosa faccio sposto di fino di due diciamo fino alla battuta numero 5 per cui adesso il mio brano non inizierà più dalla battuta numero 1 ma dalla battuta numero 5 poi fantastico infatti se riduco ecco qui ok perfetto per fare un intro più che altro un intro relativamente relativo solamente al click d'accordo cioè per avere un click che mi dica fra quanto inizia il brano e questa è una cosa fondamentale quando poi nel prossimo video cominceremo a fare veramente musica cioè cominceremo a incidere veramente i nostri strumenti che cosa faccio io evidenzia solamente il primo blocco di battute questo azzurro sempre tasto alt ok e lo sposto indietro questa volta c'è lo copio indietro gli cambio colore che ne so gli do un verde vai mazza che brutto più scuro bra per cui questo blocco di due battute cioè dalla battuta 3 alla battuta 5 mi serve lo farò suonare vuoto ma mi servirà solamente come click d'accordo d'accordo mentre questo spazio vuoto di due battute lo lascio così perché almeno quando poi tu andrai o io insomma chiunque andremo a mettere play sui nostri device nello stereo di casa a manetta con volume a manetta andremo a far suonare questo brano una volta finito chiaramente avremo questo spazio vuoto in modo che il brano non comincia immediatamente quando clicchi play ok ok allora che cosa faccio riduco ulteriormente un'altra volta alla visuale e vado a vedere dov'è che finisce il brano il brano finisce alla battuta all'inizio della battuta 53 per cui io sul mio locatore nella parte l left gli scriverò doppio clic sui numeri e gli indicherò il 53 ecco qui che lui mi ha evidenziato dalla battuta 1 fino alla battuta 53 tutto il mio brano posso togliere assolutamente posso togliere il la loop il ciclo per cui il cursore lui non non si non andrà avanti non non è che quando arriva la battuta 53 che è quella che io gli ho dato per ultimo ricomincerà da capo ma continuerà ad andare avanti e poi lo vedremo nel prossimo video vedremo perché tolgo il loop va bene allora difatti se io adesso premo play ecco qui allora questi sono le due battute dentro adesso è cominciato il brano allarghiamo fantastico abbiamo fatto allora per il momento per questo breve brevissimo video breve perché tanto tutte le nozioni più importanti che dovevo dire all'inizio le ho dette all'inizio appunto il gioco di parole vi saluto vi rimando al prossimo video che uscirà veramente a brevissimo e lì cominceremo a divertirci perché cominceremo a buttare dentro tracce audio vedremo ovviamente tutti i particolari di come fare come non fare cosa fare cosa non fare eccetera eccetera però lì ripeto ci divertiremo perché cominceremo a buttare dentro tracce audio suonate per cui cominceremo effettivamente a suonare a registrare va bene noi ci vediamo presto state bene check it out ciao 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 ciao